oh dai che anche da nebbiamo quanto sono forte quanto sono forte quanto sono forte ok ragazzi l'ho distrutto e boom mamma mia ok scusatemi mi è partito qualche edit di troppo forse ho sbagliato bella ragazzi e vero di questo momento sono un po' e bene ritrovati nel video di oggi voglio andare a trollare tre ragazzi casuali dato che andrò a fare scuote riempi mi raccomando ragazzi prima che inizi il video supporto a creditor digitate il solo e unico codice creatore più bello e più figo del mondo ovviamente p o w a con l'h alla fine se no mi raccomando non sono io vi ricordo che potete farlo gratuitamente senza alcun costo mandatemi il video alla foto su instagram che mi supportate vi posso ripostare ma detto questo oltre che dirvi che sono in live tutte le sere alle ore 20 e 30 su youtube e tutti i giorni sul sito viola e 13 e 30 direi che possiamo pure avviarci con il video ok ragazzi questa volta siamo in una duo riempi siamo con black demon ciao black demon però devi parlare bro però devi parlare vabbè fa niente puoi anche non parlare in verità mi devo fingere nambo con lui ragazzi intanto magari facciamoci una bella passeggiata così nel cos'era è esploso qualcosa sta esplodendo qualcosa in casa di black demon probabilmente vabbè io non lo voglio sapere comunque andiamo a seppi da grifoglio signore black demon venga venga non si scoraggi ragazzi stiamo andando a seppi da grifoglio in questo momento vediamo quante persone ci sono un paio di team ci dovrebbero essere nel dubbio noi ragazzi fingiamoci nabbi subito come se non sappiamo atterrare tipo non lo so li vado a picconare un po' di gente devo anche fingermi così tanto nabbo che devo anche morire cioè magari anche morire sarebbe comunque un'idea sì però queste giocate ragazzi non le riesco a fare dato che non riuscirei a giocare di mio oh bello questo ma mi sa che anche questo è nabbo ragazzi mi sa eh che vedete ragazzi vedete 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 ragazzi vedete ci stiamo come che rega ve lo giuro mi devo impegnare per fingermi nabbo eh cioè vi giuro non è molto facile perché se ormai hai delle capacità fai fatica a dimenticarle tipo qua c'è una cassa ok questi li prendo questi li prendo se sei italiano ti uccidono come se sei italiano ti uccidono ma che cavolo ragazzi ma 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 mi sa che sono italiani questi ragazzi bro 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 andiamo andiamo non so perché non so come si corre no non morire non morire non morire non morire non morire se lo sei ucciso bravo non morire però eh io qua cavoletti ho iniziato a giocare l'altro giorno mamma mia che casotto andiamo andiamo ragazzi cioè come faccio ad essere così tanto nabbo non lo so neanche io esatto esatto qua distruggiamo un po' di roba già che ci siamo ma persone dove sono scusate ma è così tanto per capire gente 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 c'è gente qui eccolo qui eccolo qui è proprio qui dentro è proprio qui dentro vediamo se riesco a ucciderlo dai ragazzi su che magari il nabbo fa la prima kill chi lo sa chi lo sa dai dovrebbe essere qui dentro ok ho ucciso quanto sono forte sii ma andiamo 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 frate sono un ma ma chi è che è mongrel ah quello lì il bambino forte si 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 assolutamente ok ragazzi la situazione sta decisamente degenerando questo qua infatti mi sembra un po' non lo so ha avuto una reazione oh c'è qualche altra gente ragazzi ma è pieno di gente cosa fa questo laser a laser a pova laser a pova laser a pova laser a pova laser a oh 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 dai che anche da nebbiamo quanto sono forte quanto sono forte quanto sono forte ragazzi ragazzi ditemi che non sono un attore professionista cosa bro che succede ma tu sei uno youtuber ma che bro ma va no no ma sgoma no no ma pure lui ma dai ma non è neanche il primo youtuber di che cosa scusami sto qua che sto giocando a fortnite dimmi dimmi no ragazzi mi ha scavato oh niente io ormai veramente che cosa sono uno youtuber dillo ma sbè ma io non lo so neanche io che cos'è uno youtuber è quello che fa video no no non sono io ok oh va bene ragazzi questo qua vuoi evidentemente mimimi non so cosa vuole fare eh ma ho iniziato a giocare tipo tre settimane fa non ho ancora capito questo qua ragazzi non capisco cosa sta facendo se vuole cercare se vuole cercare sui oh ok questa è decisamente una cosa molto molto interessante ragazzi io direi che lasciamo giù la R anche perché non saprei cosa tenermi ma porca vacca adesso trovo uno scar ci manca solo che trovo uno scar e no vabbè a questo qua glielo lascio al mio compagno ragazzi io spero che non mi stia cercando perché se mi cerca ve lo dico mi sgama mi sgama e diciamo che lui potrà vedere questo video e se tu stai guardando questo video ciao black demon sei molto simpatico però fai schifo gente gente bro gente gente dove sono? ragazzi c'è gente qui c'è gente se li sta facendo attenzione oh oh lancia razzi eeeh dai dai ma quanto sei forte andiamo dai che la vinciamo dai che la vinciamo vai ragazzi mi sta portando alla vittoria black demon grande bro grande grande grandissimo ragazzi troppo troppo forti siamo veramente troppo troppo forti gente davanti gente davanti lì 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 dai che li uccidiamo questi guardate ragazzi questa kill fantastica eeeh oh ma 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 eeeh vabbè ok io però ragazzi sto a spammare di costruzioni eh sono un abo ma sto a spammare di costruzioni fidatevi di me dai black demon ragazzi ma è fortissimo sto black demon ragazzi cioè fateli il provino perché è veramente una persona troppo 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 forte ma lui sta ancora scappando per caso mi vuoi dire che sta ancora scappando ok 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 dobbiamo spammare di costruzioni ragazzi dobbiamo spammare di costruzioni eccole qua davanti ragazzi cosa stanno facendo non lo so neanche io vieni 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 dai andiamo insieme io e te signor dinosauro andiamo andiamo come fate adatternale in faccia bro arrivo 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 da che muore da che muore da che muore no ok 21 21 ragazzi dai 21 ok ok il nambo ragazzi sa fare anche gli edit oh let's go ucciso ucciso però questo qua non glielo diciamo perché sennò dice ma come hai fatto tu non sei nabbo e quindi andiamo quindi andiamo ragazzi e quindi ci siamo questa cosa la dobbiamo portare a casa eccolo qua ragazzi il suo mico il suo mico il suo mico eeeh vabbè ho pure fatto headshot ma questo qua come va scusatemi ok ragazzi l'ho distrutto eee boom mamma mia ok scusatemi mi è partito qualche edit di troppo forse ho sbagliato gente qua a destra brutto sinistra destra stessa cosa dai oddio vediamo vediamo se riesco a ucciderlo ragazzi io non devo costruire è vero mi sto impegnando non mi sto impegnando sto giocando normalmente ma eccolo qui eccolo qui eccolo qui eccolo qui eccolo qui ragazzi devo fare il nabbo ma vi giuro mi fa mi viene veramente difficile fare il nabbo dai 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 non morire Bruno non morire ma che cavolo guardate questo ragazzi è morto il mio amico e allora adesso ci dovremo fingere i più forti fatemi mettere lo scatto predefinito ragazzi e si vola lo scatto predefinito si vola molto bene ragazzi molto bene attenzione ragazzi dobbiamo essere molto molto attenti ok qua c'è il tipo che mamma mia ragazzi no cioè io ho capito tutto quello che volete ragazzi ma è un po' un dramma così ok fatemi far così mi faccio questo ragazzi è un casino ti porto io alla vittoria stai tranquillo ragazzi qua è pieno di gente oh mio dio oh mio dio oh mio dio oh mio dio ragazzi mi sa che boa qua ci ha lasciato le penne ma cosa sta facendo ok ragazzi siamo partendo siamo arrivando con Itachi Uchia Sus ok nomi molto particolari ma penso che adesso ne entrino in altri infatti sono entrati due default ragazzi questi cavi sono tre default ma questi cavi mi sembra che sono dei nabbi ragazzi cioè mi sa che mi sa che sono dei nabbi non vorrei dire ma se fanno scuote riempie e sono default mi sembra che sono dei nabbi vabbè c'è il vostro sculle viola preferito che vi porta alla vittoria hello 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 hi how are you you are Jeff Bezos ok ok cool vabbè questi che ragazzi dicono che sono Jeff Bezos non lo voglio neanche sapere ma come brughiere brumose ragazzi che io sono un nabbo come faccio io non so neanche fare una kill e voi mi portate brughiere brumose ma io veramente non ho parole ma 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 vabbè andiamo a fare qualche kill ragazzi che la faranno loro perché in questo modo appunto io dato che devo fingermi nabbo non farò niente nel senso li seguirò e anzi disattivo pure lo scatto ok ciao bro ciao bro ciao 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 bro bro c'è uno c'è uno c'è uno c'è un carnage ah no sei solo tu il mio compagno ciao ciao tanto qua c'è pure gente ragazzi io non posso correre ciao ma chi sono questi via 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 noi andiamo via ma muori ma sei scarso come hai fatto a morire no in realtà ci muoio pure io in realtà ci muoio pure io ragazzi devo correre pure io ragazzi devo correre pure io che poveramente ci lasciano le penne ragazzi non lo posso resare ai taci non lo posso totalmente resare aiuto 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 io vado dei miei compagni perché non so cosa sta ragazzi ragazzi voi avete visto uno sculviola così tanto un hub in vita vostra io sinceramente no bene ragazzi diciamo che questo ultimo è stata una partita molto molto strana ma comunque divertente ragazzi ragazzi per la visione di questo video mi raccomando se volete supportarmi nei negozi oggetti e continuare a vedere i miei contenuti bellissimi cliccate su support and creator e digitate ovviamente P-O-W-H con la clafine solo mi raccomando non sono io ovviamente per tutti i nuovi abbonati del canale e tutti i ragazzi nuovi che mi supporteranno nel negozi oggetti appunto con il codice POA ci saranno tornei esclusivi video e live solo per quest'ultimi ragazzi mi raccomando vi potete abbonare anche solo 1,99 euro io vi saluto e vi ringrazio per la visione di questa live ci vediamo stasera alle ore 20 e 30 e live su youtube un saluto a tutti e sempre codice POA ciao belli ciao